Ti dico che non era giusto, April. Era come far salire sul ring Sugar Ray con un peso massimo il doppio di questo. Ne sono certa, Kit. Ma non succederà più, te lo posso assicurare. Spero proprio di no. Perlomeno non adesso. Ti assicuro che ho fatto i miracoli per rimetterti in sesto. Se mi capitasse di incontrare quel farabutto un'altra volta... Spera solo che vada nella direzione opposta. Sto già studiando il nostro incontro in un'elaborazione del mio computer. Fra poche ore saprò tutto ciò che c'è da sapere su quella brutta bestiaccia. Fai bene, Kit. Come procede? Dovrebbe essere pronto tra poco. Là potrei vedere come funziona. Che è successo? Beh, perché possa funzionare il modulatore di frequenza ultra dalla distanza giusta, ho dovuto installare un motore laser modificato. Sì, ma a me sembra troppo modificato. Sta tranquillo, lo aggiusterò prima che tu lo usi. Ah, prima che lo dimentichi. Questo è il carico di esplosivo che mi hai chiesto. Ah, grazie. Conti veramente di avvicinarti tanto da riuscire a piazzarlo su Goliath? Sì, il piano è questo. Non ti chiederò come farai. Anzi, credo di non volerlo sapere. Anzi, credo di non volerlo sapere. Anzi, credo di non volerlo sapere. Anzi, credo di non volerlo sapere.